partiamo al presupposto che secondo me sono tre punti buttati via c'è se con il lecce avevo detto il punto era buono con il monza un punto ci poteva stare allora quello di ieri sono sono tre punti buttati via perché ragazzi avete visto anche voi il pescara che partita ha fatto una partita ma che mamma mia ma si capisce perché sono sono lì sono lì non hanno presente mai 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 ma calciato un portal si può partire dagli episodi arbitrali insomma dalle decisioni si può partire appunto dalle scelte dalle scelte che dionise ha fatto nel nel primo tempo si può partire si può partire appunto dalla dalla gestione anche dopo 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 il gol nostro sono dal 2 a 1 io partirei parlando appunto subito appunto degli episodi dell'arbitro ci togliamo questo questo dente e non se e non se ne parla più allora ragazzi sinceramente o insomma o i cosiddetti insomma un po pieni perché insomma ora va bene tutto insomma capisco che insomma hanno tutti bisogno di punti monza ha bisogno di punti ieri pescara insomma per salvarsi ha bisogno di questi punti però insomma un certo punto anche anche no anche basta perché insomma ragazzi qui dopo alla fine sono noi questi punti insomma ci mancheranno e i due punti con il mondo ci mancheranno quelli di ieri ci mancheranno sono quattro punti in due gare che sma si è perso e sono non 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 per colpa nostra meno sono non tutti per colpa nostra e chi fate tutto è tutto questo qui allora come 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 ho detto insomma sul sul fallo sul fallo appunto di mano insomma di pirrello secondo me ragazzi quello non si fischia mai quel rigore perché lui insomma è così ragazzi il braccio ce l'ha praticamente già dietro c'è la sette fischi un rigore così ragazzi ma insomma non esiste non esiste fischiarlo perché insomma questo pic che deve fare con questo braccio o se lo taglia perché se no non c'è non c'è altre non c'è non può fare altro però ragazzi appunto con la bar in serie a si sono visti dare questi insomma sti sti falli sti falli di mano anche perché c'è questa regola ma non è chiara l'interpretazione tutto quindi io non dico che il rigore c'è però diciamo che su questo si può anche passare però ragazzi sull'espulsione cioè voglio di subusellato ragazzi se non dai un rosso lì ma quando ma quando lo tiri fuori questo cartellino rosso benedetto ma quando lo dai c'è questo qui c'è voglio di calcione da dietro a palla ferma gioco fermo ragazzi l'arbitro è liberamente a 30 centimetri cioè io insomma non voglio come ho detto pensare male però insomma poi dopo diciamo che ti ci portano anche a pensare male perché insomma non va bene a un certo punto insomma quindi insomma cioè secondo me appunto l'errore l'errore grave insomma è è quello è quello lì l'errore grave sicuramente quello insomma è un errore veramente ragazzi che non lo non lo puoi commettere in serie b cioè quello non lo puoi fare ragazzi e devono mettere questa benedettissima var perché sono qui non se ne esce da questi da questi discorsi poi tolto fatto soprattutto questo ragionamento sull'arbitraggio si può discutere del fatto che secondo me ragazzi ieri di dionisi per la prima volta forse non è a poco sbagliato ragazzi la formazione dall'inizio perché ok insomma il turnover va fatto è giusto farlo c'è la spal però non può cambiare tutto 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 l'attacco perché insomma non va bene ragazzi perché poi insomma si è visto poi insomma il primo tempo insomma si è fatto male calciato non si è mai calciato calciato un porta insomma matus ha fatto male anche 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 sulla sulla tre quarti si è fatto male ragazzi primo tempo insomma si è giocata anche male si siamo solo un po si si è tenuto il pallone insomma si è traccheggiato un po parliamoci chiaro e poi ragazzi il secondo tempo purtroppo siamo andati sotto insomma per quel del dore appunto che ha fatto stulaz con quel passaggio con la lancia con gli ha preso palla poi insomma anche i ragazzi insomma diciamo che la difesa poteva un pochino chiudere un po meglio gli erano in tre insomma si sono allargati tutti lui insomma ha calciato gol però poi dopo ragazzi però se vince quando sono entrati appunto l'amantia bairami ragazzi la partita insomma è girata bene perché ragazzi bairami ragazzi è veramente un giocatore forte 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 ragazzi e te quei tre quei tre lì ragazzi non li può tenere fuori io insomma capisco tutto il turnover ma non li può tenere fuori sono quei tre giocatori ragazzi o almeno li metti dall'inizio poi fai due tre gol li togli ragazzi li togli e passiamo tempo fai entrare i boh però ragazzi quei quei tre lì non possono stare non possono stare stare fuori io ragazzi sono convinto che se avessero giocato loro dall'inizio ragazzi questa partita finiva tanto a poco su questo secondo me ragazzi non c'è dubbi insomma c'è poco c'è poco da fare c'è poco da fare su questo discorso qui poi è insomma poi insomma diciamo appunto che gli episodi anche non ci hanno girato 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 bene però ragazzi insomma servizio che quando che quando appunto sono sono entrati loro quando sono entrati loro ragazzi e la partita ha fatto così si è fatto due gol in quanto in 10 in 10 in 10 minuti poi ragazzi ok il rigore anche l'ho detto non c'era però l'errore è alla base che i ragazzi quando vinci la partita 2 a 1 devi amministrare meglio la palla la devi far girare meglio non anche quell'azione di te il cross non glielo re vi fa fare te i costi non glielo revi far fare c'è poco da fare perché insomma si vedeva sì dopo il 2 a 1 però si vedeva che se era lì anche la gestione non era non era non era buona insomma la gestione appunto della palla quindi bisogna bisogna fare meglio poi ragazzi io su questo non voglio mettere in in croce ovviamente nessuno ragazzi ma ci mancherebbe insomma che per c'è che per una partita un pochino storta insomma si mette sotto accusa sotto 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 accusa stulats appunto di dionisi cioè nel senso ma ci mancherebbe altro che si mettere appunto sotto sotto accusa loro quello no ma sarebbe sarebbe veramente veramente da pazzi però si può dire insomma che dionisi ieri sono meno non l'ha gestita troppo troppo bene ragazzi e ora poi un'arte appunto che vi risponda anche a voi appunto per chiudere dopo tutto questo bel discorso che voglio dire che sopra ragazzi questo tempo insomma si diceva si può insomma fuga più 9 più 10 calma perché ragazzi ancora non siamo pronti insomma appunto per ammazzare questo campionato ragazzi siamo ancora primi più 4 c'è la spalla poi certo punto se vai contro la spalla vinci contro la spalla allora insomma sti discorsi insomma non contano più però insomma contro la spalla è una partita che non è facile da andare lì giocarsi la partita non sarà semplice vediamo come comandrà a finire siamo a più quattro ma che varia si sarà appunto a più no poi c'è il il pisa poi ragazza tutto fermo restando insomma che i posti quelli validi sono comunque due nel senso non è che devi per forza vincere questo anche anche arrivare 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 secondo ragazzi appunto la squadra deve fare questi step devi fare questi step per poter appunto portare a casa le partite per bene che appunto contro il vicenza ci sei cascato proprio con la reggiana è successo il discorso del rosso contro la scuola piccolare di presa però ragazzi quelli di ieri sono tre punti buttati via c'è poco da fare ragazzi davvero un po contro contro la spalla appunto quello quella punto che succederà e niente ragazzi tutto qui ora si ci rispondi un po' avonti a